Il film che ha in qualche modo rivoluzionato il western all'italiana in un momento in cui il genere si stava ormai esaurendo ormai il western violento, il western classico alla Sergio Leone o se si vuole alla Sergio Corbucci stava esaurendo le sue cartucce e ci fu questa innovazione però involontaria in quanto che il regista Enzo Barboni realizzò questo film lo chiamavano Trinità come un western che si doveva essere ironico ma non doveva essere poi particolarmente comico nei secondi delle sue intenzioni comunque sicuramente era più ironico della media perché già si percepiva che solo buttandosi verso una più marcata ironia si poteva in qualche modo salvare il genere, il finone quindi questo soggetto inizialmente nessuno voleva farlo poi dopo il produttore glielo fece fare gli attori tra l'altro all'inizio dovevano essere altri due dovevano essere Peter Martel e George Eastman poi però c'erano Terence Hill e Bud Spencer che comunque erano molto quotati già all'epoca per i western seri e che erano disponibili e quindi furono assunti proprio per interpretare i due protagonisti all'inizio addirittura il protagonista doveva essere solo Trinità il personaggio del fratello bambino fu poi ristrutturato su misura per Bud Spencer questo western però nonostante le intenzioni iniziali dovevano essere semplicemente un western ironico ebbe un impatto sullo spettatore dell'epoca pazzesco in quanto che le platesi sbellicavano dalle risate anche quelle gag che erano pensate come gag semplicemente ironiche diventavano delle gag comiche pazzesche quindi a questo punto si rese conto lo stesso Barboni e tutti quelli che hanno collaborato all'operazione che era nato un tipo di western comico che in qualche modo andava incontro a quelle che erano le esigenze dello spettatore quelle di creare, di buttare diciamo non tanto in parodia ma quanto di trasformare in commedia quello che sinora era stato un western serio e violento e infatti il bello di questo film è quello di non fare una parodia del genere come potrebbero essere i vari film di Franchi e Ingrazia quanto di giocare su quelli che erano le stereotipi i ruoli comuni del genere western all'italiana per amplificarli, esasperarli a tal punto da farli diventare comici cioè la velocità con cui i pistoleri sparavano che era una cosa pazzesca già in film come una pistola per ringo raggiungevano delle picche quasi di comicità comunque di ironia estremamente marcata qui diventano vere e proprie gay comiche è vero che il protagonista Trinità spara addirittura stando voltato fa cose impensabili, cioè del tutto surreali, del tutto assurde però proprio esasperando quelli che erano gli stereotipi e i luoghi comuni del western all'italiana e così facendo, esasperando tutti questi stereotipi tanto da renderli comici si creò un genere nuovo, appunto il western comico all'italiana che aveva un successo pazzesco a partire da lo chiamavano Trinità in poi e che lanciò i due attori Tennessee e Bud Spencer che all'inizio erano una coppia nata per i western seri li lanciò come coppia comica alla stregua dei vari Laurel Hardy tanto per dire, o Gianni e Pinotto li lanciò proprio come una coppia di attori comici tanto è che poi avrebbero interpretato dei film non solo western ma comici to court anche ambientati in altre epoche diverse quindi fu un film che ebbe un'importanza pazzesca nel genere western non solo ma nel genere italiano to court grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti